All'Agenzia regionale della sanità il compito di verificare lo stato di salute dei cittadini che abitano in zone critiche dal punto di vista ambientale. Approvata stamani all'unanimità dalla Commissione regionale della sanità la proposta di Stefano Mugnai, capogruppo di Forza Italia e vicepresidente della Commissione stessa. L'atto, spiega il consigliere regionale, punta a fissare gli indirizzi all'interno dei quali poter effettuare l'indagine epidemiologica sul territorio intorno a Podere Rota. Mugnai aveva già formalizzato la richiesta di indagine sanitaria ed epidemiologica sulla popolazione di Morante attorno alla discarica valdarnese ad Ars lo scorso 6 ottobre. Con la proposta di risoluzione approvata oggi si dà il via a questo tipo di azione. Mugnai si chiede come stanno i toscani nelle aree critiche. Starà al programma dell'attività 2018 di Ars adesso rispondere a questo quesito. Grazie.